E se ti dicessi che hanno fatto un gioco che assomiglia a Minecraft ma che è ancora più figo? Giochiamolo subito! Giochiamolo subito! E se ci stiamo facendo un video è simile a Minecraft ma è anche allo stesso tempo molto molto diverso perché non solo dovremmo sopravvivere noi ma dovremmo pensare anche alla sopravvivenza del pianeta! Esattamente! Lo so che siete già confusi però ragazzi potrebbe davvero essere l'evoluzione di Minecraft! Hanno fatto tante volte dei tentativi su dei giochi simili, li ho sempre trovate semplicemente delle copie o poco più, questa volta hanno pensato a qualcosa di davvero particolare! Cosa succede? Noi dobbiamo sopravvivere con il nostro personaggio come su Minecraft cibo, fame, solite cose normalissime però c'è un però! Il nostro pianeta vive insieme a noi come nella realtà se noi ammazziamo troppi animali di una specie quella specie si estinguerà! Esatto! Se noi prendiamo troppi alberi si disboscherà la foresta eccetera eccetera! Quindi qualunque risorsa dovremmo prenderla soltanto un pochettino, ripiantarla, cercare sempre di tenere bilanciato tutto l'ecosistema per far sopravvivere sia noi che il pianeta! Direi che possiamo iniziare! Questa è per i nicchi che è un po' bruttina devo essere sincera! Non c'era troppa personalizzazione ok? Non mi criticare! Va bene? Lo so però non sembra molto bellino! Però che potremo anche cambiare i vestiti in futuro! Fammi vedere... Tra le tante cose! Voglio far vedere i consolini che invece io sono carinissimo perché Steph si sa fare carino in qualunque gioco mi stai guardando con un'aria minacciosa! Esatto! Era quello il senso! Ti calmi? Era quello il senso! No! Sono molto bellino! La barbetta, i vestiti e sono super carino! Da che cosa iniziamo secondo te? Non lo so! Allora... Vuoi vedere un po' il mondo? Sì esatto! Voglio vedere innanzitutto dove siamo e poi dire che la cosa essenziale è fare un rifugio! Perché ci saranno mostri nella notte come su Minecraft? No per fortuna è un gioco che punta a essere realistico quindi ci sono animali! Animali! E però magari animali feroci? Potrebbero essere dei problemi però sinceramente in zona non sto vedendo nulla quindi secondo me per ora puoi non portare sfiga e andrà tutto bene! Ok perfetto! Ovviamente le calorie indicano la nostra fame, piano piano scendono a furia di camminare, più camminiamo più ne consumiamo, se tagliamo legna si consumano più in fretta e mangiando tornano su! Però sotto c'è una cosa ancora più importante che sono gli skill points! Ma stiamo... cioè stiamo perdendo calorie solo respirando ma magari fosse così nella realtà capite? Certo che così anche nella realtà passa il tempo! Ma sarei magrissima! Ma che cosa magrissima guarda! Con tutti i dolci che mangi non potresti essere magra neanche se corresti 24 ore al giorno! Dicevi degli skill points vai! Cambiamo discorso! Praticamente in questo gioco non si sa fare nulla cioè il tuo personaggio in questo momento è una meba che sa camminare e basta e il mio personaggio pure! Gli skill points sono la cosa che ci rende diciamo utili nel mondo! Ok mi è piaciuto questo! Praticamente qua possiamo imparare a fare qualsiasi cosa quindi abbiamo diverse cose che possiamo imparare ti faccio un esempio! No vabbè ma li sto cliccando ed è fantastico! Ti faccio un esempio! Ok noi andiamo sul logging che sarebbe tagliare la legna clicchi qua su questo più spendi un punto e opla nella barra sotto ti è comparsa l'ascia da ora in poi tu puoi tagliare la legna! Fino a quando non impari questa cosa non potrai tagliare la legna! Ah fantastico! La cosa più bella che io abbia mai visto! Ovviamente ogni cosa ha diversi punti più lo porti in alto più cose ti permette di fare qua ci sono scritte ad esempio le cose che ti dà se lo porti a livello 1 puoi fare altre cose eccetera eccetera Però per ora limitiamoci ad imparare un po' di cose secondo me ci conviene imparare delle cose diverse in modo tale da gestirci fin da subito un senso cooperativo Mi stai riguardando male? Mi spieghi perché oggi vuoi fare l'inquietante? No ti stavo dando colpi di ascia ma tu non mi vedi dare colpi di ascia non so perché No mi spiace proprio quello che stavo cercando Che sono? Sono dei fichi! Ah sì! Praticamente Oh che buoni! Tieni premuto adesso un fico e lo acchiappi Ok perfetto l'ho preso Però dobbiamo stare attenti perché se tu esageri a prendere troppi fichi in questa zona smetteranno di crescere e stermineremo i fichi dalla zona Quindi prendine un pochettino Oh no poveri fichi! Ne ho presi due Allora io me ne prendo tipo secondo me abbiamo bisogno di prenderne un po' eh te lo dico Facciamo Io ne ho preso tre Dai tre a testa Ok Tre a testa mi piace non esageriamo ok Comunque quindi questa è un'ottima zona per il cibo perché i fichi dovrebbero sommarci abbastanza Oh guarda! Che c'è? Vieni vieni qua! È perché la mappa carica lentamente all'inizio Eh lo so guarda Uh! L'acqua! Che bello! Questa è la sabbia sicuramente vero? Sì esattamente Non è ghiaccio perché è un po' strano Ma bastava cambiare un settings e adesso vediamo quasi tutta la mappa Oh che bello! Tutta dunfiata Bellissima la zona Però sta anche tramontando il sole Resta il problema che non abbiamo minimamente legna in zona Ma perché siamo spawnati in un posto terribile? Ma che sfortuna ogni volta Noi iniziamo carichissimi, bellissimi, infogatissimi e non troviamo nulla Vabbè Esatto Siamo arrivati dove ci sono un sacco di alberi Ma è fantastico E guarda gli animali Ci sono i cervi e tipo i buffali Ciao! Che cosa bellissima Che belli che siete! E qua c'è un ruscello meraviglioso Col tramonto che sta spuntando Che bello questo mondo Allora No è l'alba, è l'alba Eh sì l'alba Io non so perché ho problemi tra l'alba e tramonto Siamo di mattina Sono le 5.40 di mattina Ok perfetto Allora Quello che ti volevo dire Che adesso abbiamo trovato la legna senza dubbio Non avremo più problemi con la legna Perché ce n'è davvero tante qui Quindi basta prendere un pochino da ogni punto Per non disboscare tutto Ok? Esatto Però siamo di nuovo senza cibo E mi rifiuto di ammazzare questi poveri animali Ma a parte che non ne abbiamo le armi Quindi non ne abbiamo le capacità Con gli skill points ce li hai Uh Ho trovato dell'uva Qual è? Qui 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 In questo cespuglio Aspetta Guarda Questo qua uguale Vedi? Ok perché l'hai presa tu? Vedi qua c'è l'uvetta Uh Perfetto Allora sai che ti dico? Che noi andiamo leggermente più indietro Perché qua ci sono troppi alberi per costruire E ci facciamo una bella base Sì Con la foresta vicina Perché ci sono animali Legna e cibo Che direi che è perfetto Perfetto Dove facci la base Perfetto Ci serve un punto Ma la facciamo nella spiaggia? Sì Perché guarda qua la spiaggia Dai ci sta Sì 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 Ok Allora adesso ti faccio vedere come si buttano giù gli alberi Mi devi promettere che non urli Aspetta Io sono già scesa giù Stavo andando a vedere la nostra nuova casa Il nostro nuovo posto per il rifugio Aspetta che risalga Sei un po' troppo impulsiva Eh no è troppo bello Dai ci sono ci sono Ok Fammi vedere Allora Prometti che non urli Ok Devi firmare un contratto Non credo Vai Devi dire Giuro Io Ferenichi Regina di Sword of the Court Giuro Sono regina di tutti i giochi Quindi non mi diminuire Per favore No solo in quel gioco Lo faccio da sola se non ti muovi Allora Ok Ok Considera che consuma tantissime calorie 20 calorie Ogni colpo che dai La moglie L'albero crolla E fin qui dirai Ok Nulla di strano Normale come tanti altri giochi Giustamente come tutti i giochi Come tutti i survival Adesso Non devo colpire il tronco a casaccio Devo colpire il tronco in certi punti Per separarlo in tronchi più piccoli Ok Ok A questo punto Che l'ho separato nei tronchi più piccoli Colpisco un tronco Per un po' di tempo No sto avendo qualche problema Ok Ah no basta che fai il tasto C'è con la E Dopo che tagli un tronco in modo piccolo E te lo prendi mano Sì vabbè ma ce li ho Sono piena Sì sì Lo tieni Vedi Lo tieni nella mano sinistra Sì mi sento qua Sono finissima Andiamo nella spiaggia Ti faccio vedere come si costruisce Ok Puoi provare a indovinare in tutti i modi Non lo indovini Ok Allora Noi andiamo qui Ovviamente in futuro Noi potremo costruire Tipo delle carriole Per mettere la legna lì No sì sì ho visto che ci sono un sacco di cose Ma iniziamo ovviamente dalle cose basi Esattamente Allora Noi adesso abbiamo questa legna in mano Ok Premi il tasto destro E la metti a terra come costruzione Cioè come costruzione diretta? Sì Ma nel verso che voglio? Tipo qua? Esatto Ok Tu vedi hai la sagomina del quadratino Sì la vedo Miqui in quel punto col tasto destro e lo piazzi L'unica cosa che non ho capito Ok perché non ho scoperto il tasto E come farla girare Ah ok no scusami è semplicissimo Allora Quanto la vuoi grande? Dimmi Bo Eh Basta così Basta così Facciamone l'ultimo Ok Iniziamo a chiudere ora da qui dietro Credo che a questo punto Io faccio così Che figo E quindi c'è tipo lo devo mettere qui a fianco? No Voglio provarci Lo devi mettere nell'ultimo tronco Miri il tronco e fai tasto destro Esatto Così? Sì Bellissimo Lo so Prova a mettere uno sopra l'altro Aspetta Perché tanto pesa Dobbiamo farlo anche verso l'alto Opla No vabbè Eh? Non è bellissimo? Io adesso vivrò qui dentro Continua il perimetro Io vivrò qui dentro Te lo dico già Dopo quattro ore e mezzo Capito Capito Scoprirono come mangiare Tab Tasto destro sul cibo E se lo mangia Un fico mi dà 120 calorie Anche a me Allora praticamente ho scoperto Che noi non possiamo morire di fame In questo gioco Però Se noi non mangiamo a sufficienza I nostri skill points Smettono di essere accumulati Quindi smettiamo di poter imparare A fare cose E non possiamo neanche fare lezioni Che richiedono appunto Dell'energia È fantastico Per di più Mia cara Una brutta notizia per te E anche per me Siamo obbligati a mangiare Qualunque tipo di cibo Abbiamo bisogno di carboidratti Abbiamo bisogno di frutta Abbiamo bisogno di proteine E di vitamine Quindi Il gioco ci chiede una dieta completa Per soddisfare i nostri skill points Quindi non possiamo mangiare Solo frutta Solo verdura Ok Prima o poi saremo obbligati a cacciare Eh vabbè Ci sta Comunque Io mi sono mangiato tutto quello Che avevamo Andiamo a tagliare ancora legna Finiamoci di fare La nostra base iniziale Allora direi di non esagerare Perché non voglio disboscare Già tutto Quindi secondo me Ci teniamo su qualcosa di piccolino Guarda 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 Te le porpo pietole Oh che belle Così a casaccio Ne ho preso due Prendine due anche tu dai Non esageriamo Sì una la lascio Perché così almeno si riproducono Che figa questa cosa Di dover lasciare le risorse Mi piace troppo Non bisogna essere ingordi Bisogna anche rispettare Il posto dove vivi E questa cosa mi piace davvero Davvero tantissimo Buttiamoci giù quest'albero Prendiamoci entrambi la legna Portiamola a casa E costruiamo La nostra bellissima base Allora Quindi aspetta che lo divido in pezzetti Ok Uno Due Tre Prendo E quattro Allora Io ne ho dieci Quindi non ne posso prendere più di così Io ne ho cinque Perché ne ho cinque E non te ne fa prendere altro No Cioè sono più scarsa di te Può essere Aspetta Scusa Come è possibile Ma stai zitto Guarda Steph Come è possibile Ciao Ho trovato un pavone Lascia in pace i pavoni Aspetta mi sono persa Non so più dove cazano Non è possibile Non so più dove cazano Allora Con tab in basso a destra Hai pure una mappa Se la clicchi Puoi vedere l'intero mondo E ci vedi a noi come puntini Aspetta Ok Dimmi che l'hai clicata Dov'è la mappa? In basso a destra ti ho detto Ah ecco la mappa Te la carica Adesso ti da un mondo Tu con la rotellina Zoomi E vedi il mio pallino Il tuo pallino E pure dove stiamo costruendo Quindi non ti puoi perdere In questo gioco Ah ecco Ok Vieni verso di me E torna Ok Tornando dalla parte opposta Di dove devi andare Non è questa No Non ce la posso fare Rimarrò qui per sempre Dritta così Ecco la nostra base Siamo riusciti a fare Tutto il perimetro Tutta l'altezza Come la volevamo Abbiamo messo un po' di finestrelle Per non renderlo Troppo chiuso E adesso stiamo iniziando Il tetto Che guardate che meraviglia Si fa così Opla 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 Vediamo se riesco a fare Almeno tutta una linea Così da un po' Già l'idea di tetto Sì ce l'ho fatta È troppo Troppo bello Il sistema dei craft È bellissimo È davvero bellissimo Sto facendo dei tronchi Verso sotto Un po' strani Che a te non sono usciti Ok Non so perché Non so bene Che cosa siano Forse poi nel caso Vanno sistemati Una cosa che tu non sai Che io ho Che ancora non ti ho detto Di avere Sto morendo di fame No quanto Tanto No un po' di bacche Tanto Ma la cavo con quella E sì abbastanza Non mi sono resa conto Che con la legna Praticamente stavo morendo Di fame Difficile Difficile Ho piazzato male Una cosa per sbaglio Dentro la casa E non me la sta facendo distruggere No perché Non ho idea Finito 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 Che carina È bellissimo Guarda il soffitto Cioè è una figata incredibile È troppo bello Allora Rimane il problema Che questo non me lo fa togliere Hai piazzato in mezzo alle scatole Un tavolo da lavoro Però Guarda che bello Clicca con la E Per lavorarci Ok Tieni premuto E Ti fa vedere tutte le cose E vabbè Che si possono craftare Ok E ti dice Di che cosa hai bisogno Tipo requires trading 1 Quindi che devi imparare Quello skill points Capito E ti dice quindi Cosa devi imparare Cosa non devi imparare È quello che puoi creare E per di più È uno storage Se tu vai E lo riclicchi Hai tre sezioni Ok E a fianco a craft Hai pure storage Nello storage Puoi mettere delle cose comuni Tra per me e per te E pure delle cose private Quindi hai un inventario Un po' per te E un po' per me Tipo ci metto sta legna Che tanto mai ho finito E la vedi tu Sì guarda E ne ho messo anche io Adesso ne abbiamo cinque Sì perché non mi serve a niente Quindi non ho senso Ti possiamo pure dare un nome A no weed No Vabbè Dai Volevo provare Prima di fermarci Col primo episodio Abbiamo imparato Lo skill points Quello per raccogliere Le Diciamo le piante No per prendere i semi Per prendere i semi Quando raccogliamo le piante Quindi volevo provare a seminare Un semino Ok Però non ho idea Di come si fa Secondo me ci vuole la zappa E ce l'ho Devi lavorare il terreno Ok Capito Sicuramente Nella sabbia Nella sabbia non credo che possiamo Quindi provo qua Prova Tagli l'erba E poi lavori il terreno E' geniale Ma lo sta facendo? Sì lo vedi che sta sparendo l'erba? Sicura? Sì Guarda Ok E adesso però devo lavorarla ancora di più Credo di sì Cioè tipo su minecraft Quando avevi la terra proprio Fresca Capito? Potevi piantare O no? Sì dai direi di fermarci così Per questo episodio Speriamo davvero troppissimo Che vi sia piaciuto Che volete vedere una serie Perché sarebbe fenomenale ragazzi Il potenziale di questo gioco Ancora non l'avete visto C'è il primo episodio E' soltanto l'inizio Ci sono due miliardi di cose da fare Possiamo arrivare a costruire Una vera e propria civiltà E come abbiamo detto Essendo un mondo Dove la cosa più importante E' sopravvivere Sia noi che il mondo stesso C'è addirittura il governo Cioè tu fondi il governo Con i player che stanno dentro al server E prendi delle decisioni Tipo ok ragazzi Da questa foresta Tagliamo soltanto 15 alberi Da qui prendiamo soltanto 10 minerali E quindi bisogna fare Tutte delle decisioni Per fare dei progressi Senza distruggere il mondo E' davvero fantastico Spera che si riuscite così Se giù già stateci un bel like E se la prima volta Che vi ho detto il nostro video Potete considerare l'idea Di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao alla prossima Ciao 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 Team Ciao Ciao Grazie per la visione!